L'alluvione quando esce? Il 5 ottobre su Netflix al via dal 5 ottobre 2022 in esclusiva su Netflix la prima stagione dell'alluvione serie TV, dramma polacco in sei episodi tratto da una tragica storia vera La produzione Netflix si conferma infatti il primo adattamento per il piccolo schermo a raccontare gli eventi reali legati all'alluvione millenaria, quella che ha colpito la Polonia, parte della Repubblica Ceca e della Germania nel 1997 Dopo le interviste del team creativo con centinaia di sopravvissuti e testimoni, la produttrice e ideatrice Anna Kepinsk della serie ha affermato, trama dell'alluvione, di cosa parla? 1997, Polonia Un imminente alluvione minaccia la città di Breslavia, spingendo scienziati e funzionari del governo a prendere al più presto una decisione di vita e di morte Per questo le autorità locali, guidate dall'aspirante segretario comunale Jakub Marcaz, Thomas Shushart, chiamano in loro aiuto l'idrologa esperta Jasmina Tremier, Agnieszka Zulowska, l'unica in grado di salvare la città a ogni costo Nel frattempo Angel Rebaz, Ireneo Zsop, torna nel suo luogo di nascita, un villaggio vicino a Breslavia, trovandosi inaspettatamente alla guida dei residenti ribelli per arginare il disastro Il tempo a loro disposizione è davvero poco, e tutto dipende da una sola decisione in grado di cambiare per sempre le vite di tutti e la storia dell'intera regione Cast di L'Alluvione, attori e personaggi chi troviamo nel cast ufficiale dell'Alluvione? Agnieszka Zulowska, Thomas Shushart, Ireneo Zsop e Thomas Co sono gli interpreti principali della serie Netflix ideata da Anna Kepinska Episodi di L'Alluvione, quanti sono? Diretta da Janu Lubke, Bartuom e Ignaciuq, in tutto sono sei le puntate della miniserie polacca basata su fatti realmente accaduti Anna Kepinska si occupa della produzione e dell'ideazione della serie, mentre la sceneggiatura è affidata a Kasper Baione e a Kinga Kozeminska Trailer di L'Alluvione Ecco di seguito il trailer ufficiale di L'Alluvione diffuso da Netflix, L'Alluvione in streaming, dove vederlo in streaming, gli episodi di L'Alluvione sono disponibili in esclusiva su Netflix in tutti i territori raggiunti dal servizio L'Alluvione 2 ci sarà? Cosa sappiamo sul futuro dell'Alluvione 2 stagione? Presentato sin dall'inizio come una miniserie, al momento non risulta ancora rinnovato il dramma polacco prodotto e ideato da Anna Kepinska Trattandosi infatti di una serie TV ispirata a una tragica storia vera, ci sembra improbabile che il titolo possa continuare con una nuova stagione Certo è che, se Netflix registrasse una risposta positiva da parte del suo pubblico, potrebbe decidere di proseguire nella narrazione concentrandosi magari sulle conseguenze dell'Alluvione millenaria avvenuta nel 1997 Per esserne sicuri non ci rimane che attendere una risposta ufficiale dal colosso dello streaming Per esserne sicuri non ci rimane